benvenuti benvenuti lenti fumatori da moreno per questa seconda parte sul video del video sullo scottish flake di robert mcconnell io vorrei che questa seconda parte venga vista perché il contenuto secondo me è molto molto importante nella prima parte vi ho fatto vedere l'apertura e le prime impressioni prime impressioni che si sono comunque valide ma contengono veramente delle informazioni sterili dopo due settimane che fumo questo tabacco e me ne sono rimaste due fette che vi mostro vi devo dire che finalmente ho aggiunto un virginia all'elenco dei miei virginia preferiti anche se questo qui è un virginia un po particolare ma proprio per questo motivo è una gioia in più perché comunque è un virginia che va aggiungersi ai migliori tabacchi che ho provato ma va anche a creare una sorta di diversificazione perché il contenuto di questo sono virginia dark virginia virginia scuri kentucky e un pizzico di peric un'altra cosa che non vi ho detto è anche che l'aromatizzazione è segnalata una lieve aromatizzazione al rum lieve aromatizzazione al rum che si si traduce soprattutto nell'olfatto in qualcosa di zuccherino di alcolico ma che in fumata non mi sembra una caratteristica peculiare invece caratteristica peculiare è la profondità di questo tabacco e il fatto che sia un tabacco molto molto strutturato ci rimanda per tutta la fumata dei dei sentori di frutta frutta matura che danno profondità a un buon virginia prodotto da colas and cop come i tabacchi rat rice infatti sono sempre più convinto che io debba approfondire trovare un punto dove recuperare questi tabacchi rat rice e altro suo punto di forza è che è reperibile in italia al costo di 23 euro e 50 io ho pagato questa latta e ve lo consiglio vivamente soprattutto nel periodo autunnale che guardando un po la programmazione dei miei video dovrebbe essere appena essersi appena concluso vi darò una serie di di gioie e di impressioni positive messe così buttate a caso un'altra è anche questa che è un flake della gestione davvero semplice quindi trovata la pipa della dimensione che voi ritenete giusta lo potete davvero sì in questo caso anche caricare senza troppo darvi pena per sbriciolarlo ovviamente io l'ho provato sia sbriciolando sia caricandolo a metà sia caricandolo così più o meno intero con questo flake mi sento di potervi dire che se volete sperimentare una fumata più lunga più duratura perché comunque il flake piegato brucia più lentamente potete cimentarvi con questo tabacco perché è un tabacco dalla gestione molto molto semplice cos'altro ma torniamo ai ai sapori allora già dall'olfatto si sente questo questo sentore di uvetta di frutta matura ma anche di frutta un po più fresca ci sono anche questi profumi di buccia uniti a un a una struttura molto vegetale è una struttura terrosa unita anche un po a sarà forse in questo caso che si manifesta un po l'aromatizzazione a rum i uniti anche a questi profumi così zuccherini anche di melassa ma la cosa più bella accade davvero quando lo accendete perché ha una partenza molto molto morbida poi l'evoluzione si fa via via sempre più intensa e aumenta la profondità dei sapori percepiti rimanendo comunque un tabacco molto molto morbido nel senso di morbidezza di sapori perché anche come nicotina è un tabacco appagante io sono veramente preso bene da questo tabacco e vi sto saettando milioni e milioni di parole perché sono davvero davvero molto molto soddisfatto accendiamo intanto sentite qui i rumori i miei rumori tipici che mi accompagnano durante la giornata lavorativa pipa che non ha bisogno di presentazioni è la charatan doppia e scusatemi la rinaldo doppia y sarah una fantastica canadese con cui mi sto trovando benissimo quindi troverete questi sapori che vanno ad unirsi ai profumi la fumata è il risultato delle due cose praticamente ciò che respirate anche dal naso e che avete respirato i profumi che avete sentito prima vanno ad unirsi ai sapori che sentite durante la fumata il tutto rappresenta l'esperienza di gusto gustativa che voi affronterete nella fumata e quindi la fumata questa esperienza di gusto è la somma la complessità quindi ovviamente profumi e sapori si mischiano uniti anche alle nostre emozioni alla nostra alle nostre suggestioni questo è l'esperienza della della fumata è inutile delle volte star lì a separare le cose ea cercare di capire cosa avete respirato dal fumo che esala e cosa avete sentito con le papille gustative anche perché passando il fumo dal retronasale in questo modo voi percepite anche il col retronasale appunto alcuni alcuni profumi questo per dirvi che questa esperienza globale che vi accingerete a fare con lo scottish flake è una bellissima esperienza io gli ho dato un voto veramente alto un otto e mezzo per una serie di fattori il costo che secondo me è un costo giusto e meritato anche in luce ai nuovi aumenti degli altri virginia reperibili in italia la reperibilità perché se andate nelle tabaccherie specializzate dove ci sono normalmente i samuel gewitt i mcconnell i rattrice insomma lo trovate la semplicità di fumata anche caricato con flake intero che è un metodo un po' ostico la profondità l'esperienza che vi regala questa fumata è davvero complessa profonda un'esperienza complessa profonda dicevo che vi porterà ad esplorare un virginia che si stacca dai virginia chiari anche ad esempio il best brown il full virginia flake che anche quelli sono virginia più strutturati questo qui prende alcune caratteristiche di quel virginia ma va poi a modificarsi avendo anche del kentaki percepibile nella maniera giusta e avendo anche un pizzico di peric insomma una variante davvero eccellente che mi è piaciuta tantissimo quindi ve lo consiglio di questo tabacco ho fatto anche una scheda scritta perché lo merita quindi vi metto il link qua sotto sia in sovraimpressione che nei messaggi che nella tendina perché vorrei che andaste a leggervi anche le parole scritte che io riesco con le parole scritte a essere meno dispersivo e meno svolazzante quindi sul blog che ho aperto ormai l'anno scorso moreno fumando la pipa blogspot.com troverete anche una recensione la mia esperienza degustativa con questo tabacco in maniera letterariamente più compiuta ecco per ora vi dico di iscrivervi di andare a vedere il primo video con l'apertura della tin e le prime impressioni se non l'avete visto ve lo link qua sotto anche quello mettete mi piace e provate se non l'avete ancora fatto e fatemi sapere cosa ne pensate voi dello scottish flake di robert mcconnell per me è super promosso ciao al prossimo video